carima al secolo carima mar e il suo quartetto saliranno sul paico dell'hotel brufani venerdì 15 dicembre 2017 ore 21 30 sala raffaello per il jazz club perugia con lei fabio giacchino al pianoforte davide liberti al contrabbasso e ruben bellavia alla batteria la performance ha un nome christmas times here e ci sta tutta dato il clima natalizio al brufani il repertorio come detto sarà dedicato al natale lo sarà tra standard jazz e brani della tradizione non strettamente legata alla musica afroamericana l'appuntamento sarà il solito alle 21 e 30 per il concerto e alle 20 e 30 invece per chi vorrà gustare le predibatezze gastronomiche